Allora, ancora un po'. Allora, adesso ragazzi, un miracolo della moderna tecnologia. Siete pronti, signori? Via. Inseriamo nei vostri molari delle microcapsule. Per mezzo di queste capsule e del satellite Voyeur saremo in grado di localizzare la vostra posizione in qualsiasi punto del pianeta con l'approssimazione di 30 centimetri. Davvero? Dico davvero! Non trovate che è fantastico? Certo, ma non c'è il rischio di perderle. Non so se per esempio qualcuno dovesse colpirmi. Assolutamente no. Sono incastonate nei denti e ancorate alle mascelle. Sì, ma c'è di più. Se noi stessi tentassimo di estrarle senza prima averle disattivate, di questo edificio resterebbe soltanto l'indirizzo. Bum! 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 Grazie.